Cambio, cambio ennesimo di crocchette al cane, ho preso l'agnello che non l'ho mai mangiato e questo qua con il pollo, però adesso il pollo non va bene, è uguale, gli do il pollo lo stesso, il pollo non va bene, non lo so, forse non va bene il pollo, forse non va bene, non lo so, e vabbè, ho sbagliato, gli dava fastidio, però gli dava fastidio anche il manzo, e poi gli ho dato questo di agnello, però di là c'ho i cereali, c'ho il cereale, questo per esempio ha i cereali, quello là adesso i cereali li voglio togliere, però faccio degli esperimenti, c'ha la macchia nera sotto il costato e un continuo grattamento, però di andarlo a impozzare, scusa eh, di andarlo a impozzare di cosa non c'ho neanche voglia, eh? di andarlo a impozzare di cosa non c'ho neanche voglia, come si chiama quello che prendono loro, i cortisoni, eh? tanto, visto che loro possono prendere il, non il cortisoni, scusa, dai, come si chiama, il paracetamolo, no, no, non la tachipirina, l'iboprofeno e mi sa che lo possono prendere, non spendo un sacco di soldi da veterinario io qua, eh?